Fu la dimensione comunitaria della Chiesa, vissuta prima di tutto come fraternità a costituire il cuore del Concilio Vaticano II, alle spalle esperienze diverse, età e lingue differenti. I Vescovi, provenienti da ogni angolo del pianeta, parteciparono ai lavori conciliari allo scopo di rispondere alle urgenti ed entusiasmanti domande del mondo moderno. Per rileggere in maniera inedita il grande evento del Concilio Ecumenico e conoscere da vicino le emozioni più profonde dei suoi protagonisti, tra speranze, timori, gioie e incertezze, il Pontificio Comitato di Scienze Storiche la scorsa settimana ha promosso una tre giorni di incontri dal titolo Il Concilio Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari. Appunti sulle riunioni delle commissioni preparatorie, lettere e documenti privati sono stati oggetto di dibattito tra gli studiosi riuniti alla Pontificia Università Lateranense per un'indagine storiografica vincente. I diari personali sono le fonti più preziose, come sostiene Philippe Chenot, direttore del Centro Studi e Ricerche sul Concilio Vaticano II. Queste carte private dei padri, ad esempio la fonte più interessante per lo storico del concilio, sono i cosiddetti diari dei padri conciliari. Non tutti i padri hanno tenuto un diario durante le sessioni, ma molti di loro sì, e raccontano quello che non si trova appunto nei documenti, nella documentazione ufficiale del concilio. Ad esempio ieri è stato detto una cosa interessante, dove alloggiavano i padri? Il fatto di essere insieme in una certa residenza a Roma, di prendere i pasti eccetera, creava occasioni di colloquio eccetera e poteva essere all'origine di iniziative comuni, il fatto di essere anche nello stesso pullman che portava i padri dalla loro residenza al Vaticano ogni giorno. Bene, lo storico deve prendere in considerazione tutto questo e solo in un certo tipo di fonti possiamo trovare informazioni su come i padri hanno vissuto veramente l'evento conciliare. Accostarsi a questi documenti non significa solo ricostruire quelle reti di opinione che diressero di sessione in sessione l'andamento dei lavori conciliari, ma anche comprendere le preoccupazioni di chi fu chiamato a partecipare ad un evento che avrebbe dato inizio ad un nuovo cammino per la Chiesa di Cristo, con noi Alberto Melloni della Fondazione per le Scienze Religiose, Giovanni XXIII. Il lavoro conciliare è un lavoro nel quale i vescovi hanno sperimentato, al Vaticano II in modo particolare, una collaborazione con i teologi che non avevano da molti secoli. Era dai tempi del Consiglio di Trento, quando i teologi sedevano in concilia e in pomeriggio parlavano a favore dei vescovi, che mancava questo rapporto diretto di vicinanza. Ed è questo soprattutto quello che noi oggi cogliamo studiando il Vaticano II, cioè non solo il fatto che i vescovi avessero delle intenzioni o delle speranze delle paure, questo è più che normale ed è più che ovvio, ma il modo in cui loro sono stati capaci di diventare interpreti, selettori, filtri e promotori di quello che è stata una grande opera di rinnovamento della Chiesa Cattolica.